Con una nota napolitano replica indirettamente a Berlusconi, nessuna forzatura sullo scioglimento, ma l'interesse del paese è una campagna elettorale non prolungata, dice il capo dello Stato. Monti rinvia la conferenza stampa di fine anno, prevista per venerdì prossimo ed incontra a Palazzo Chigi Montezemolo, Riccardi, Cesa e Casini, che dice non abbiamo parlato della sua discesa in campo. Bersani attacca indecorosi ed incommentabili i traccheggiamenti di Berlusconi sui tempi elettorali e sull'approvazione della legge di stabilità, il cui ITER parlamentare si allunga. Berlusconi incontra prima i dissidenti Meloni e Crosetto, poi convoca a Palazzo Grazioli lo Stato Maggiore del PDL. Marco Pannella interrompe lo sciopero della fame e della sete, nella notte il leader radicale accusa un malore d'accetta di sottoporsi alla terapia di reidratazione. Senza giustizia preferisco morire, aveva detto il ministro della giustizia Severino, dice abbiamo un obiettivo comune, rendere il carcere un luogo umano. Lo spread scende sotto quota a 300 punti, 295 per l'esattezza, al momento un calo che influenza positivamente le borse, ancora male però l'industria italiana che segna il decimo ribasso consecutivo ad ottobre, dello 0,2% pari a meno 4,7% su base annua. L'euro è ai massimi da maggio. Cresce la popolazione in Italia, siamo 59,4 milioni ma aumentano soltanto gli stranieri, che oggi sono oltre 4 milioni, mentre gli italiani in 10 anni sono diminuiti di 250 mila unità. Questi i dati del censimento 2011, dai quali emerge anche che gli anziani toccano il 21% e la maggioranza della popolazione al femminile. Buongiorno a tutti voi dal Tg della Sette e benvenuti a questa edizione del Telegiornale. Evitare dunque il prolungamento dello stato di incertezza istituzionale per il Paese. Così si esprime in una nota del Quirinale, ancora una volta fa sentire la sua voce il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. In una giornata, quella di oggi, segnata in particolare dallo spostamento a data da destinarsi della conferenza stampa di fine anno di Monti. Ed oggi Monti stesso ha incontrato Casini, Montezemolo, Riccardi e Cesa. La notizia era nell'aria. La conferenza stampa del Presidente del Consiglio Monti di fine anno, prevista per venerdì 21 alle 12, è stata rinviata ad altra data. Un rinvio inevitabile, dovuto al percorso improvvisamente accidentato della legge di stabilità, che impedisce a Monti di seguire la roadmap delle sue dimissioni secondo i tempi inizialmente previsti. Ancora una volta, infatti, il PDL si è messo di traverso, puntando ora a giocare la carta di spostare in avanti la data delle elezioni. Ma puntuale è arrivata poco fa una nota dal Quirinale. Le ipotesi di data per lo scioglimento delle Camere non sono state dettate da alcuna forzatura o frettolosità. Napolitano sottolinea di aver sempre auspicato che le elezioni si svolgessero alla scadenza naturale, ma aggiunge nella nota e nell'interesse del Paese che non si prolunghi eccessivamente la campagna elettorale in una fase sempre critica e densa di incognite per l'Italia. Uno stop a Berlusconi, mentre Monti scalda i propri motori. Stamattina si è infatti svolto il primo vertice politico del professore. Di buon'ora si sono infatti materializzati a Palazzo Chigi i suoi potenziali alleati e sponsor. Montezemolo e Casini, oltre al ministro Riccardi, hanno parlato del futuro dell'area di centro e soprattutto del ruolo dell'attuale Premier in questa prospettiva. Monti farà le sue scelte. Naturalmente è inutile tirarlo per la giacca, ma noi comunque saremo in campo per garantire che la politica e la società civile diano un senso e un seguito allo sforzo di risanamento che questo governo ha fatto. Intanto il capo dello Stato, in una lettera al quotidiano La Stampa, ha voluto chiarire i suoi rapporti con il Premier, descritti come molto freddi negli ultimi giorni. La temperatura non è affatto gelida, scrive Napolitano. E poi una precisazione. Come si fa a dar l'impressione che io quasi non abbia indicato come causa della brusca accelerazione verso la fine della legislatura la decisione del PDL di considerare chiusa l'esperienza del governo Monti? E di lì che sono scaturite le dimissioni di Monti e io l'ho detto ben chiaramente. Nessuna frattura o tensione con Monti dunque. Ma Napolitano vuole chiarire anche quale sarà il suo ruolo nel dopo elezioni. L'incarico al nuovo Premier nascerà dalle consultazioni post-elettorali e non è vincolato ad alcune ipotesi precostituita. E non sono pochi i precedenti che convalidano questo modello di comportamento dei Presidenti della Repubblica. Insomma, secondo Napolitano sarebbe stato arbitrariamente frainteso il suo pensiero riducendolo al fatto che l'incarico sarebbe stato semplicisticamente dato a chi arriva primo. Un'apertura complessiva nei confronti di Monti e sul suo possibile futuro ruolo. E si allungano insomma i tempi dell'approvazione della legge di stabilità. Il PDL chiede più tempo, il PD insorge e c'è anche un duro attacco di Bersani a Berlusconi. Ed oggi in casa PDL arriva un nuovo cambio di passo di Berlusconi che ritira l'offerta a Monti e che convoca una riunione dei vertici a Palazzo Graziole. Di rinvio in rinvio, la legge di stabilità dovrebbe arrivare in aula e al Senato nel primo pomeriggio. Se non ci saranno ulteriori intoppi, la legge verrà approvata domani per approdare poi venerdì alla Camera per il via libera definitivo con un giorno di ritardo rispetto alle previsioni. Il passo successivo a quel punto spetterebbe al Capo dello Stato che potrebbe sciogliere le Camere prima di Natale. Non è detto però che tutto fili liscio. Alla Camera il PDL, come ha detto il capogruppo Cicchito, ha infatti intenzione di prendersi tutto il tempo necessario per esaminarla. Ma il Presidente della Camera, fine avverte, mi abbarrò di tutti gli strumenti regolamentari necessari per approvare il provvedimento entro venerdì. Sul PDL intanto l'ira dei democratici. È una tattica, vogliono solo spostare più in là le elezioni, tuona da Bruxelles Pierluigi Bersani. Adesso vedo da parte della destra degli elementi di traccheggiamento proprio sulla legge di stabilità, ritengo la cosa indecorosa, inaccettabile, incommentabile perché non si possono subordinare temi come la legge di stabilità o la vita del Parlamento ai tuoi interessi, ai tuoi calcoli, ai tuoi calendari di partito. Secondo il Partito Democratico, il PDL sta cercando di prendere tempo per organizzare al meglio la campagna elettorale, ma soprattutto le alleanze sulle quali Berlusconi sembra procedere a zigzag nel buio totale, contraddicendosi di continuo, come ha fatto ieri sera porta a porta, prima appellandosi a tutti i moderati affinché si riuniscano sotto la guida di Mario Monti, poi sparando a zero su Fini e Casini, due personaggi orridi, anzi orridissimi li ha definiti e di fatto arricchiviando il sostegno al professore. La tattica del rinvio del voto permetterebbe a Berlusconi di continuare la semina mediatica delle sue apparizioni in tv, così da raccogliere i frutti prima che entri in vigore la par condicio. In una nota diffusa ieri dal PDL viene fatta esplicita richiesta di spostare la data del voto al 24 febbraio o al 3 marzo. Per evitare il caos delle elezioni si legge soprattutto all'estero dove decine di migliaia di elettori italiani potrebbero trovarsi per questioni di tempo nell'impossibilità di esercitare il loro diritto di voto. Intanto il Cavaliere, dopo aver incontrato questa mattina Giorgia Meloni e Guido Crosetto ha convocato all'ora di pranzo un vertice a Palazzo Grazioli con tutto lo Stato Maggiore del partito per fare chiarezza sulla strategia da adottare. Dopo otto giorni consecutivi di sciopero della sete e di sciopero della fame Marco Pannella è allo stremo delle forze, avrebbe accettato anche in seguito a un malore notturno, avrebbe accettato l'eflebo. Senza giustizia preferisco morire, avrebbe dichiarato lo storico leader radicale. Io accetto le operazioni. Sono le sette di questa mattina, quando provato e con una voce tremante Marco Pannella consente, seguirà una terapia in dovena che vuol dire iniziare ad essere reidratato. Accetto ogni intervento necessario per vedere se riusciamo a salvare questa baracca per arrivare all'interruzione della criminalità flagrante e nazista folle dello Stato italiano per andare oltre, verso il diritto, la legge e magari le beatitudini. Con queste parole Marco Pannella spiega come si sia finalmente convinto. Il leader radicale in nottata ha avuto un mancamento nella clinica romana dove è ricoverato, in seguito all'allarme dei medici che nell'ultimo bollettino parlavano di condizioni seriamente peggiorate. Pannella ha ceduto. Vediamo di salvare questa vita per salvare quella delle migliaia di persone che soffrono in carcere in una situazione di illegalità. Ieri il premier Monti aveva fatto visita al leader radicale, lo ha ascoltato sulla sua richiesta di amnistia e di interventi urgenti per sanare la piaga delle carceri, lo ha abbracciato, gli ha chiesto di smettere, di sospendere lo sciopero. Pannella lo aveva ringraziato ma ha rifiutato. Non posso, ma vi pare possibile che si stia trepidando per la mia vita quando ci sono migliaia di vite torturate? La domanda è in diretta da Radio Radicale, dove ieri è andato contro il volere dei medici. Nella notte il malore. In queste ore Pannella è a letto, sottoposto a Flebo, con la radio sempre accesa, ha lanciato un appello alle personalità della cultura, dello spettacolo. Umberto Veronesi, Roberto Saviano, Vasco Rossi, Adriano Celentano, a loro ha chiesto di candidarsi nelle liste di amnistia, giustizia e libertà. Se ci fossero delle adesioni, ha rassicurato Pannella, riprenderei immediatamente a bere. Abbiamo bisogno di Pannella vivo, delle sue idee per le quali ha combattuto una vita il ministro della giustizia, Severino, si è detta compiaciuta per la decisione del radicale, ma Pannella chiede un'amnistia in Parlamento, non c'è la maggioranza necessaria per vararla. Ha spiegato il ministro che ha aggiunto «Io voglio lo stesso obiettivo, ma con le leggi, come la salva carceri. E all'obiezione dei radicali, che questa legge riguarderebbe solo lo 0,3% dei detenuti, ha risposto «Abbiamo dati diversi, 1200 detenuti l'anno possono essere raggiunti da queste misure alternative». Il guardasigilli ha detto anche che entro il 2014 ci saranno 11.000 posti in più nelle carceri. Spread in discesa, ancorato ben sotto i 300 punti base, borse positive. Diamo allora uno sguardo a questa giornata con indicatori buoni, a quanto pare, sui mercati. 287 punti di spread è il sogno di Mario Monti di mezzare prima della fine del suo mandato il tanto odiato differenziale, la cui crescita impone all'Italia il pagamento di salati interessi sul debito. Una missione che oggi sembra davvero a portata di mano. Questa mattina, infatti, siamo scesi sotto i 300 punti, segno che i mercati, nonostante tutto, credono che l'Italia ha davvero intrapreso un cammino di risanamento, che nemmeno le ultime incertezze politiche e la ridiscesa in campo di Silvio Berlusconi potranno vanificare. Un'ondata di ottimismo che investe comunque tutte le borse europee, a partire da Piazza Affari, grazie all'allentarsi delle pressioni sull'intero debito pubblico del vecchio continente. E segnali di fiducia nei confronti dell'Italia arrivano anche dalla Germania, che dopo gli attriti e il gelo tra Silvio Berlusconi e Angela Merkel ha trovato in Monti un gradito partner. Ecco allora sulle pagine del Corriere della Sera un'intervista al ministro degli esteri Westerwelle, che rinnova la sua fiducia al nostro paese, a cui augura di continuare nel cammino delle riforme, proprio come è fatto a suo tempo dalla Germania, considerata il malato d'Europa. Il debito pubblico italiano, però, ci tiene a sottolineare il ministro, non è certo colpa della Germania e l'Europa, aggiunge, non farà da parafulmine ad un'eventuale campagna elettorale populista. Insomma, avanti così, ma attenzione. Anche perché, inutile nasconderlo, la crisi c'è ed è sotto gli occhi di tutti. A ottobre, rileva l'Istat, il fatturato dell'industria italiana è calato ulteriormente, su base mensile dello 0,2%, su base annua del 4,7%, calo dovuto ad una flessione della domanda interna dell'8%, mentre si registra un leggero aumento di circa due punti di quella estera, segno che a tenere in vita l'impresa italiana sono ancora le esportazioni. Da Bruxelles, infine, arriva la notizia della chiusura dell'indagine europea che riguardava l'Imu e la Chiesa. La Commissione conferma che le esenzioni concesse al Vaticano nel passato con l'ICI erano incompatibili con le regole comunitarie sugli aiuti di Stato e certifica che l'attuale legislazione invece è corretta dal momento che le esenzioni fiscali si applicheranno solo sugli immobili dove sono condotte attività non economiche. Eccezionalmente, si legge nel comunicato, l'Europa non chiede all'Italia di recuperare gli aiuti e concessi in quanto è impossibile determinare adesso quali parti degli immobili in questione sia stata usata solo per attività non economiche e dunque legittimamente esenti. E sono stati diffusi oggi i dati relativi al censimento degli italiani. Registrano un aumento della popolazione, ma grazie all'apporto delle maggiori presenze di stranieri. A crescere è soprattutto la popolazione femminile ed anche il numero degli anziani. A vivere in Italia, nativi o no, insomma, i residenti, siamo in 59.433.744, il 4,3% in più rispetto al 2001. Lo dice l'ultimo censimento. Un incremento dovuto solo e soltanto agli stranieri. In dieci anni sono diventati quasi 2.700.000 in più ed oggi superano in totale i 4 milioni. Siamo passati da 23,4 stranieri ogni 1.100 siti nel 2001 ai 67,8 di un anno fa, mentre i cittadini italiani sono diminuiti di 250.000 unità, lo 0,5% in un decennio. È nei comuni di media dimensione che aumenta la popolazione, quello di Roma, si conferma il più popoloso, 2.617.000 abitanti. Pedesina, in provincia di Sondrio, il meno popoloso con appena 30 abitanti. Alla data del 9 ottobre 2011 sono stati contati circa 94 uomini ogni 100 donne. L'età media della popolazione è di 43 anni con una tendenza al ribasso al mezzogiorno, ma l'Italia si conferma comunque un paese di anziani. Gli ultra sessantenni sono passati dal 18,7% al 20,8% e fatta eccezione per le classi da 0 a 9 anni si nota un minor peso delle classi più giovani e una maggiore incidenza delle classi più adulte. I residenti di età compresa tra i 10 e i 39 anni sono 20 milioni e 330 mila, oltre 2 milioni in meno rispetto al censimento precedente. Per ogni bambino con meno di 6 anni si contano sempre più anziani. In 40 anni siamo passati da un rapporto di 1,1% del 1971 a 3,8% nel 2011. Anche il rapporto tra la popolazione con 65 anni e più e quella con meno di 15 anni è notevolmente aumentato passando dal 46% del 1971 al 148%. Nel 2011 la Lombardia è la regione con più ultracentenari seguita dall'Emilia Romagna e dal Veneto. E a far tremare nuovamente la regione Lombardia arriva adesso una nuova inchiesta sulla sanità. 50.000 euro nel 2007, 100.000 nel 2009. A tanto ammontano le somme che i fratelli Sandro e Antonello Polita denunciano di avere pagato ad Antonio Tomassini, presidente della Commissione Sanità del Senato, per ottenere il via libera alla realizzazione dell'hotel Capolago e della clinica La Quiete a Varese. Il senatore Tomassini si è detto sereno e in attesa di essere ascoltato dai magistrati per chiarire la propria estranetà. Dopo continui rifiuti alle richieste di permessi per il via libera ai progetti, non avevamo altra scelta che aderire alla richiesta di dazione di denaro, si legge nelle carte, mandate dagli imprenditori di Varese al PM di Milano Robledo. Da qui sarebbe partito l'ennesimo scandalo della sanità lombarda, una costola delle indagini che il sostituto procuratore di Varese Agostino Abate stava svolgendo sui fallimenti di attività dei Polita. I fratelli poi si sono rivolti al magistrato milanese sostenendo che Abate aveva un atteggiamento persecutorio nei loro confronti. Gli indagati, a vario titolo tra concussione e corruzione, sono cinque. Oltre ai due imprenditori, e Tomassini, anche la segretaria di quest'ultimo. Indagato anche il direttore generale della sanità della Lombardia, Carlo Lucchina, che secondo l'accusa sarebbe stato il destinatario finale di parte del denaro. Il governatore scende in campo a difesa del suo direttore generale e del sistema sanitario, fiore all'occhiello della regione, ancora una volta nell'occhio del ciclone. È una montatura contro regione Lombardia, contro di noi. L'ottimo Lucchina, in tutte le vostre cronache, l'ottimo Lucchina non ha percepito un centesimo. Secondo indiscrezioni, nelle indagini sarebbe coinvolto anche l'imprenditore Antonio De Feo, ex democristiano. Non risulta tra gli indagati, ma la sua Miralago sarebbe stata tra le strutture perquisite dalla Guardia di Finanza nel corso dell'indagine. Colpito da tanti scandali, si riunisce oggi il Consiglio regionale della Lombardia. È l'ultimo giro di giostra al Consiglio regionale della Lombardia, travolto da qualsiasi tipo di scandalo, con ipotesi di reato, di voto di scambio con l'andrangheta, malaffare e corruzione nella sanità, fino all'ultimo caso di peculato per i rimborsi delle spese dei consiglieri di Lega e PDL. I deputati regionali sotto inchiesta sono 22 per ora, accusati per scontrini di ogni tipo. Carne, pane, cioccolatini, lecca-lecca e salsicce, oltre a cene e notti in albergo. Entrano di corsa e senza rispondere. La maggior parte, come Nicole Minetti, sceglie un ingresso secondario. Pierluigi Toscani, il leghista che ha messo in nota spese 750 euro di cartucce da caccia, è uno dei due consiglieri in congelo. Cesare Bossetti, altro leghista, nei corridoi della procura è stato ribattezzato l'uomo del cappuccino e brioche. Ha messo in nota spese anche di scontrini da 1,60 euro dell'autogrill. Bossetti, il caffè, gliel'hanno pagato o no? Ma sopra i soldi, sono 15 euro. I colleghi che si fermano ovviamente non sono indagati per questa storia. Belotti, ex assessore del Carroccio, peraltro sotto inchiesta per una storia collegata agli Ultras dell'Atalanta. Moralmente i militanti della Lega faranno tutte le loro valutazioni. Io ne ho sentiti tanti, sono inchiazzati neri, va bene? Cattaneo è l'ex assessore PDL che qualche mese fa finì in prima pagina perché aveva detto di non riuscire a campare con 8 mila euro al mese. Appunto, se quelle sono cartucce non vanno bene, quelle sono un esempio di una spesa che non c'entra niente con la funzione istituzionale che non è accettabile. Angelo Ciocca, leghista di Pavia, è l'unico indagato del Carroccio che ieri si è presentato dai pubblici ministeri. In tutto gli contestano 24 mila euro che la Regione gli ha rimborsato fra il 2010 e il 2012. La sua nota spesa è una delle meno stravaganti eccetto 4 crodini a Lilton, 2000 calendari di Natale e un iPad. Le voci sono una marca da bollo, sono dei francobolli, sono acquisti di carta intestata, buste, biglietti da visita. Io ho un telefono, è l'unico numero che ho da 25 anni a questa parte. Questo telefono è pagato al 100% dal sottoscritto. Io non ho due numeri di telefono. La Procura oggi ha convocato altri 7-8 consiglieri c'è anche la Minetti. Probabilmente se ne presenterà uno solo anche a causa del legittimo impedimento della seduta del Consiglio. Via libera del decreto Salva-Ilva-Montecitorio che adesso passa l'esame del Senato. 421 sì, 21 no e 41 astenuti. Il cammino del decreto Salva-Ilva va avanti spedito. Poco fa è stato approvato dalla Camera. Un esito atteso sul quale però il Governo tecnico non ha voluto correre rischi e apposso la 51esima fiducia. Ora il testo sarà inviato al Senato per la conversione in legge entro Natale. L'esecutivo intende assicurare la continuità produttiva dell'acciaieria per questo dopo il no dei magistrati di Taranto al dissequestro dei prodotti finiti e semilavorati il testo è stato arricchito di nuovi emendamenti misure che consentiranno la commercializzazione di quei prodotti e altre per la tutela della popolazione più esposta. A Taranto intanto il presidente dell'ILVA Bruno Ferrante ha accolto l'occasione degli auguri di fine anno per attaccare di nuovo la magistratura. L'autentica volontà dei giudici ha detto l'ex prefetto anche lui indagato per disastro ambientale non è quella di salvare lo stabilimento e di posti di lavoro ma di andare verso una tragica chiusura e ancora il sequestro è contro i lavoratori non contro l'azienda ha ribadito Ferrante perché un'azienda che non può vendere i suoi prodotti non può pagare gli stipendi parole alle quali ha fatto seguito la decisione dell'azienda di rinviare al 24 dicembre il pagamento della tredicesima decisione che in molti in fabbrica hanno letto come un modo di far pressione sui lavoratori in attesa del dissequestro dei prodotti finiti le parole durissime di Ferrante alimentano anche la tensione con i magistrati che sarebbero pronti a sollevare il conflitto di attribuzioni di fronte alla corte costituzionale non una parola invece il presidente dell'ILVA dedicato alla manifestazione che sabato ha visto sfilare pacificamente 15.000 persone per le strade della città Taranto Libera hanno gridato bambini ambientalisti operai al passaggio davanti al palazzo di giustizia un modo per schierarsi dalla parte dei magistrati e negli Stati Uniti prosegue la campagna del presidente Obama contro le armi d'assalto dopo la strage di venerdì scorso nella scuola del Connecticut non abbiamo fatto abbastanza per affrontare la vergogna di questa violenza è chiaro il mea culpa è del portavoce della Casa Bianca ma riflette lo stato d'animo di un'intera nazione Jay Carney annuncia così che il presidente degli Stati Uniti è d'accordo con l'iniziativa della senatrice democratica della California che a gennaio chiederà al congresso di reintrodurre la messa al bando delle armi d'assalto non c'è più spazio per i tentennamenti mentre prosegue la triste processione delle vittime della strage della Sandy Hook Elementary School verso il cimitero di Newtown quel divieto introdotto da Bill Clinton nel 1994 era scaduto otto anni fa nel 2004 con George W. Bush e non era più stato rinnovato per la feroce opposizione della potente lobby delle armi ma stavolta sull'onda emozionale di quanto accaduto in Connecticut per la National Rifle Association sarà davvero difficile impedire la svolta proibizionista in fatto di armi ieri la NRA ha rotto il silenzio con un comunicato stampa in cui si è detta pronta ad aiutare le famiglie delle vittime di quello che ha definito un fatto orribile e venerdì a Washington ha convocato una conferenza stampa per esporre le proprie posizioni ma non si prospetta nulla di positivo in fatto di affari per i produttori di armi il presidente Obama punta anche a una stretta sui gun shows vere e proprie fiere delle armi dove soggetti a rischio dai tossici alle persone con problemi mentali riescono a comprare senza alcun controllo le armi che altrimenti non potrebbero acquistare in un negozio e Wall Street ha subito compreso che tira una brutta aria per l'industria delle armi da fuoco così Smith & Wesson ha chiuso con una perdita secca di 10 punti percentuali i segnali insomma sono tali che il New York Times può scrivere che negli Stati Uniti in fatto di controllo delle armi ci sono ragioni di speranza il calcio con la vittoria dell'Inter sul Verona e con le altre partite la pazza Inter di Stramaccioni trova sempre il modo di stupire e di animare le serate anche le più fredde dei suoi tifosi stavolta ha chiuso la gara di Coppa Italia col Verona con Palacio un attaccante in porta per più di un quarto d'ora al posto dell'infortunato Castellazzi l'argentino tra i palici ha messo anche del suo per centrare la qualificazione Arresto ha pensato l'incontenibile Guarin entrato a inizio ripresa in quattro minuti ha steso il Verona con un assist per Cassano al sesto centro stagionale e un gol che valgono il passaggio ai quarti di finale dove il 9 gennaio l'Inter affronterà la vincente fra Napoli e Bologna in programma oggi insieme a Lazio Siene e Udinese Fiorentina il Verona terzo in classifica in Serie B dopo aver eliminato Genoa e Palermo ha fatto bella figura tornando al Meazza dopo 11 anni meno i suoi 8000 tifosi protagonisti di scontri con la polizia prima della partita interrotta per tre minuti dall'arbitro Rocchi a causa dei lacrimogeni stasera il Napoli in campo col Bologna per lasciarsi alle spalle i due punti di penalizzazione e le squalifiche di Grava e Cannavaro il presidente dell'Aurentis furioso così si falsa il campionato nel pomeriggio la Lazio ospita il Siena ma a tenere banco all'annuncio del presidente Lotito pronto a scendere in politica voglio salvare il calcio e il paese ha dichiarato al Corriere dello Sport vedremo intanto si avvicina la finestra del mercato invernale e la Juventus cerca di stringere per Didier Drogba Marotta è forte di un'intesa con Livoriano per un contratto di 18 mesi ma anche il Milan è interessato tanto che Galliani sta lavorando per inserirsi nella trattativa in attesa di cedere in Brasile Pato e Robinho a fronte però di offerte concrete all'altezza la stampa spagnola definisce invece prive di fondamento le voci di un possibile trasferimento di Cristiano Ronaldo da Real Madrid al Paris Saint Germain neanche se a Parigi dovesse andare ad allenare Mourinho un aggiornamento sempre per il calcio la partita Cagliari-Juventus si giocherà a Parma per l'inagibilità del campo quello ovviamente della isola della Sardegna adesso ci fermiamo un attimo per la pubblicità a tra poco un aggiornamento dell'ultimo Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano torna a richiamare l'attenzione delle istituzioni delle forze politiche dell'opinione pubblica sulla situazione delle carceri italiane una situazione vergognosa e che marchia l'Italia esprime poi contemporaneamente anche sollievo per il fatto che il leader radicale Marco Pannella abbia accettato le terapie salva vita grazie a tutti voi per l'attenzione e buona giornata